Il mio amico Russo ha voluto riprendere, iniziare con alcuni ritratti. E' anche una bella scultura di Giacomo Rizzo che avete visto prima, ma non tanto per far vedere un po' il mio volto che conoscete, quanto per far vedere come gli artisti interpretano il volto, in questo caso di un autore, di un personaggio ritratto. Vedete Bruno Caruso, vedete Anna Kennel, vedete Gambino, vedete Emilia Faro e appunto vedete questo, fra gli altri. Perché questa sottolineatura? Non certo, ripeto, per una questione di vanagloria, ma soprattutto perché il ritratto è anche espressione plurale di tanti sentimenti. Direi anche il ritratto di un uomo, il ritratto letterario, il ritratto non solo in pittura. Fra gli altri possiamo guardare qui alcuni ritratti di grande importanza. Pensiamo a questo ritratto di Marinetti, del grande fondatore del futurismo di cui l'anno scorso è celebrato il centenario, Filippo Tommaso Marinetti, ritratto dal grandissimo Mino Maccari, bellissimo ritratto, Marinetti, come era presso a poco, dove? A Firenze, alle giubbe rosse, vedete l'indicazione, per darvi l'idea un po' di come anche un autore possa interpretarne lo spito. È un grande, vedete, la forma immediata. Pensate a questo ritratto, per esempio, del pittore Nino Garaio, pittore bagherese di grande importanza. Questo è un ritratto di Castrenze Civello. Castrenze Civello, anche lui poeta futurista, è stato anche mio amico, uno dei grandi poeti futuristi, recentemente ricordato a Bagheria, con una splendida contro-serata, o meglio contro-conferenza, come l'ha chiamato il Lions di Bagheria. Abbiamo fatto una bella serata con Anna Maria Ruta, che è una grande storica del futurismo, e abbiamo interpretato i segni e direi anche le parole, da un lato, del futurismo e di Marinetti, ma soprattutto dei grandi Giacomo Giardina e Castrenze Civello. Perché questo accenno? Perché, vedete, la personalità, l'identità degli autori si può leggere in molti modi. Una trasmissione come questa deve abituare a pensare che un autore è anche il suo lettore, è anche colui che lo vede, lo immagina, lo sa guardare attraverso le lenti personali. Leggendo un libro, guardando un quadro, guardando una realtà, io posso avere aspetti plurali con cui confrontarmi. E ognuno interpreta, ma anche la fotografia interpreta. Anche la fotografia è in grado, è capace di procurare tante emozioni. Io penso in questo momento a una bella iniziativa che abbiamo svolto come Fondazione Ignazio Buttitta a Palermo, a Bagheria, in occasione del Primo Buttitta. Penso a Giovanni Pepi, che è grande giornalista, grande esponente del giornalismo italiano, oltre che direttore con direttore del giornale Sicilia, che da anni ormai dedica alla sua grande passione, dopo il giornalismo, che è quella della fotografia. Beh, anche la fotografia interpreta e in condizioni di leggere la realtà, di modificare spesso il senso apparente delle cose per entrare in profondità. Questo appunto è un ritratto, ma anche un libro è un ritratto, anche un libro parla. Noi spesso viviamo, leggendo un libro, una realtà ulteriore. Pensate a un grande romanzo, pensate a una grande opera di poesia, pensate a Dante, a quello che ancora Dante ci riesce a dare, ma pensate alla Jorzenar, ai grandi autori contemporanei, che cosa significa, per esempio, affrontare la figura dell'imperatore Adriano, le memorie di Adriano di Margherita Jorzenar. Bene, tutte queste cose ci danno la possibilità di leggere ulteriormente, di darci quello sguardo interiore che il quadro, la scultura, la fotografia, la pittura, il grande concerto delle note riesce a darci in profondità. Ecco, leggere e supportare la nostra vita con quel senso delle cose che soltanto la bella cultura può dare e soltanto la bella cultura può darci come ulteriorità, come possibilità, perché rispeccharsi in un libro, rispeccharsi in un quadro, sentire una sinfonia, guardare una bella scultura, osservarla, entrare dentro il libro, vivere il libro, significa anche vivere un'altra vita. Più libri si vivono, più vite si vivono, più mostre si frequentano, più l'immagine diventa ulteriorità e bellezza. E dobbiamo essere contro la sciatteria e contro il minimalismo, dobbiamo puntare alla cultura alta, profonda, che anche nella diaspora in cui viviamo vi ha un senso alla vita.